...e la versione mi indebolita. Rasti! Rasti! Tenca duro! Mi prego, aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Aiutatemi! L'ufficio del Ranger era chiuso. Dovevo trovare la chiave per entrare. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Qua dietro! Sono qui! Signor Wake! Oh, merda! È successo! Proprio come scritto in quella pagina... ...che ho trovato! Si è avverato! Sapeva! Così... ...oscuro! Tornerà per me! Deve... ...le luci! Nell'ufficio! Ho le chiavi! Ok, Rasti! Tenga duro! Torno subito! Chiunque fosse stato non era lontano. Rasti aveva trovato una pagina del manoscritto. Mi avrebbe aiutato a capire cos'era successo. Perché Rasti fosse al sicuro, era indispensabile riattaccare la corrente e far tornare le luci. Ero arrivato tardi. Qualcuno aveva distrutto il salvavita. Riaccendere le luci era impossibile. Rasti! Rasti! Scusami. Ai cacciatori serve una licenza. Scusami. Qualcosa aveva aperto un buco enorme nel muro. Non date da mangiare agli animali. Ecco. Va acquistando una licenza di pesca. Per barco, seguite sempre le indicazioni. Grazie. Grazie. Grazie no. No. Portatemi mai. Non portatemi mai. È vero di questo. Stimando in sottosia. Stimando in sottosia. Stimando in sottosia. Inoltre. Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lascia perdere, Barry. È che sto impazzendo. Oggi tu... Oggi tu... Non sei pazzo. Magari fossi pazzo, ma non lo sei! Sta a petto! Resta in casa. Non aprire la porta a nessuno. Sul serio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'Overspeaker alla fine del percorso naturalistico. La 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 fine del percorso naturalistico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.